170 contagiati oggi in Abruzzo e quanto emerge dall'analisi di 3.363 tamponi molecolari e 2.096 test antigenici per un tasso di positività complessivo del 3,1%. Il più piccolo tra i contagiati ha 4 mesi, il più anziano 87 anni. La provincia di Teramo è quella con più nuovi casi, sono 60. Seguono l'Aquilano con 52 casi, il Chietino con 37 casi e il Pescarese con 18 casi. Uno dei contagiati invece proviene da fuori regione, mentre per due persone sono in corso verifiche per accertarne la provenienza. Benché sia preoccupato per le riaperture del 26 aprile, il virologo Paolo Fazzi si dice ottimista per il progressivo miglioramento dei dati. Sicuramente le restrizioni hanno dato un contributo al contenimento dei nuovi casi. Sicuramente la campagna vaccinale, anche se percentualmente ancora non è elevato il numero degli italiani che è stato sottoposto al vaccino, però ovviamente anche la campagna vaccinale ha contribuito, non saprei dire in quale percentuale, ma sicuramente ha contribuito a non far circolare il virus. E poi un'altra situazione favorevole, sono stati ben giorni di caldo, comunque di temperatura elevata che si sono avute nelle ultime settimane e come dicevo prima il caldo non fa circolare il virus. 415 guariti, ma l'Abruzzo oggi piange ulteriori 8 morti tra i 58 e i 91 anni che portano il bilancio delle vittime a 2.345. Scende lentamente il numero degli ospedalizzati, 494, 20 in meno rispetto a ieri, sono i pazienti ricoverati in area medica, 51 quelli in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri, ma con due nuovi ricoveri. Attualmente in Abruzzo sono 9.505 positivi accertati, 253 in meno rispetto a ieri.